Prendi un respiro profondo, ancora uno e un terzo. Immagina che dalla somnità del capo una meravigliosa luce celeste inizia ad entrare in te. Immagina che questa luce percorre tutto il tuo corpo e al suo passaggio dentro di te scende la pace. Inizia a sentirti in pace, inizia a sentire la tranquillità scorrere in te, inizia a sentire che tutte le tensioni scivolano via, inizia a sentire che tutto intorno a te diventa pace. E tu sei parte di questa pace infinita. Ti lasci andare, il tuo corpo diventa leggero e inizia a fluttuare. Sei come una nuvola che viene trasportata dolcemente dal vento. E mentre ti lasci andare dolcemente, vieni poggiata su una meravigliosa distesa di erba verde. I tuoi piedi li senti poggiati su del soffice prato, morbido e fresco. Ti osservi e vedi come sei vestita. E inizi a camminare seguendo un sentiero di ciottoli. Sono ciottoli dorati. Più li osservi e più ti rendi conto che sembrano pietre preziose. E continui a camminare seguendo questo sentiero meraviglioso. E inizi a vendere in lontananza un meraviglioso castello fatto di quarso citrino. I colori sono delicati, ma allo stesso tempo caldi. E tu entri in questo meraviglioso castello. E vedi che c'è un altare sul quale sono poggiati dei fiori. Ti accorgi di aver portato con te un dono. E lo poni su questo altare. Di fronte al quale c'è una sedia. Fatta anch'essa di quarso citrino. Ti siedi su questa sedia. E l'energia del quarso citrino inizia a salire dentro di te. Inizia a sentire una alchimia. Inizia a sentire un potenziamento. Inizia a sentire un infinito benessere. Inizia a sentire che tutto lo stress, le tensioni, le preoccupazioni vengono assorbite. E invece dentro di te inizia a rafforzarsi. Il tuo potere personale, la tua forza. Emozioni positive come fiducia, allegria e gratitudine. Inizia a sentire di essere grata e grato per tutto ciò che hai avuto fino adesso. E ripeti dentro di te, grazie vita per tutto ciò che mi hai dato fino adesso. Grazie vita per le prove difficili perché mi hanno fortificata. Grazie vita per le gioie. Grazie vita per le risate. Grazie vita per essere una maestra severa. e giusta. E giusta. Grazie vita quando non ti comprendo. Grazie vita quando ti capisco e tutto si fa luminoso. Grazie vita per esserci per me e per le persone che amo. Grazie vita per insegnarmi ad essere la migliore versione di me. Senti che il potere del quarzo citrino inizia a scorrere dentro di te. E ti senti di ringraziare il quarzo stesso perché tu sai che i cristalli sono vivi. Apri il tuo cuore e le tue emozioni e apri a ringraziare il quarzo citrino che ti sta ricaricando e rigenerando. Percepisci che la tua interiorità è tutta dorata. Ti senti rinascere. Ti senti forte. Ti senti bene. Ti senti grata alla vita. Grata a tutto ciò che ti circonda. Grata al quarzo citrino per la sua energia. E ti senti arricchita, potenziata. E pronta ad affrontare ogni prova. Soprattutto pronta a vincere. Dì addio a tutta la parte vittimistica di te e di benvenuto a quella guerriera, potente, imbattibile, meravigliosamente audace. Dì a te stesso o a te stessa, sono potente oltre ogni misura. Posso realizzare tutto ciò che voglio. Co-creo la mia realtà. Da oggi sono la migliore versione di me stessa o di me stesso. Ti senti forte. Dentro di te c'è una carica enorme, del colore del quarzo citrino. Ti alzi dalla sedia di pietra. Guardi di nuovo l'altare e lo vedi molto più luminoso. Fai un inchino davanti all'altare e esci. E inizi a ripercorrere al ritroso il sentiero di pietre preziose. Passo dopo passo, passo dopo passo, ti senti leggiadra come non mai, saltelli. E mentre salti ti rendi conto che puoi spiccare il volo. E così spicchi il tuo volo e due meravigliose ali del colore del quarzo citrino spuntano e ti permettono di volare. Sai perfettamente dove devi andare. Sei perfettamente in grado di dirigere la tua vita adesso. Avevi bisogno di forza e di coraggio e ti sono state donate. Con il cuore pieno di gratitudine, atterra e poco poco rientra nel tuo corpo fisico. Piano piano e dolcemente prendi consapevolezza che il tuo corpo fisico è prezioso, che la tua anima è preziosa. E che il quarzo citrino può essere una pietra a te molto cara. Apriti all'infinita gratitudine. E resta in questo stato di beatitudine per tutto il tempo che vuoi e che desideri. E solo quando ti sentirai pronta, potrai dolcemente aprire gli occhi. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.